L'Itis Caramuel di Vigevano è pronto a riaprire dopo l'allagamento di martedì mattina. Ad aver provocato i danni è stata l'esondazione del naviglietto Saporiti, corso d'acqua poco conosciuto anche dai vigevanesi. Abbiamo quindi deciso di ricostruire il percorso della roggia. Ad essere straripata in via Carrarola è stata la diramazione chiamata Cavo Turca. Il corso d'acqua parte però in via Verdi, dove il naviglio sforzesco si dirama e sul lato sinistro parte proprio il percorso del naviglietto Saporiti. Il naviglio sforzesco invece prosegue sulla parte destra fino ad arrivare in centro. Il tratto adesso è chiuso per consentire i lavori in piazza Sant'Ambrogio. Tornando al naviglietto Saporiti, da via Verdi, questo sottopassa Corso Milano e via Leonardo da Vinci e poi torna in superficie in via Matteotti. In questo punto si dirama ulteriormente e dalla sponda destra parte il Cavo Turca, che arriva in via Carrarola, dove si sdoppia un'altra volta. Lì era avvenuta l'esondazione che martedì mattina ha provocato i danni a Litis Caramuel. Nonostante l'acqua sia rientrata e il timore di altre esondazioni sia passato, il colore del naviglio continua ad essere molto scuro a causa del fango portato dall'ondata di piena.